Appunti di Sicilia e eccellenze della nostra bellissima terra, ce ne sono davvero tantissime, se ne discute oggi grazie ad un incontro che avete organizzato insieme agli studenti. Sì, oggi abbiamo invitato un giovane scrittore che è anche un giornalista, di recente ha vinto la borsa di studio che viene proposta appunto dall'Ordine dei giornalisti, è stato il vincitore in assoluto a livello regionale. Ci faceva piacere averlo perché? Perché intanto è un esempio di un giovane che pur facendo un altro mestiere ha passione per la scrittura, la lettura. E perché poi, oltre ad essere un giornalista, è anche uno scrittore. È uno scrittore agrigentino, quindi uno della mia terra, ma gele e agrigento ormai sono legate da un forte fil rouge, diciamo. E naturalmente l'ultimo libro che lui ha pubblicato l'anno scorso, con una casa editrice agrigentina, è Appunti di Sicilia, come sottotitolo appunto Eccellenze della Sicilia. È un libro fatto con brevi flash, racconti, in cui appunto parla delle eccellenze territoriali, ma anche delle eccellenze di uomini che si sono distinti. Nel suo viaggio alla scoperta delle eccellenze siciliane, che cosa l'ha entusiasmata di più? Allora, ho scoperto un'isola meravigliosa, un'isola continente. Nel sottotitolo, infatti, ho fatto riferimento a questo. Perché la nostra è un'isola che ha tutto. Ci sono i ghiacciai, ci sono le temperature altissime di Lampedusa. Abbiamo colline, abbiamo rocce appuntite e abbiamo i siciliani. Siciliani siamo 5 milioni di persone completamente diverse. Mi ha entusiasmato questa diversità. È l'unicità di questa diversità. Noi siamo una terra splendida, disgraziata, martoriata, però assolutamente unica. E ho voluto, in Appunti di Sicilia, far venire fuori nelle 150 pagine tutte queste particolarità. Francesco Pira, la Sicilia è la terra davvero delle eccellenze, dotata di un patrimonio naturalistico e pesaggistico straordinario. Che cosa non funziona allora in questa terra? Non funziona il nostro modo di raccontarla. Noi abbiamo delle forme di lamentazioni che sono eccessive, rispetto per esempio alla capacità che abbiamo di comprendere le cose bellissime che ci circondano, ma che siccome le vediamo molto spesso pensiamo che ci sono dovute e quindi a volte non riusciamo nemmeno a salvaguardarle. Credo che questo incontro di oggi è importante perché rivendicare un'identità siciliana conta soprattutto nel momento in cui ogni giorno le cronache parlano della Sicilia come una terra dove non funziona nulla. Ecco, il libro di Antonio Fragapane ci fa capire che c'è una Sicilia dove ci sono delle cose che sono veramente di eccellenza ma che non siamo capaci poi tutto sommato di valutare bene.